Salve a tutti ragazzi, io sono Sapatone e in questo video vorrei fare il pronostico della partita del Napoli che giocherà domani contro la Salernitana. Diciamo che questa partita è un derby e il Napoli giocherà in casa allo stadio Maradona. Di solito ho detto sempre che il Napoli con queste squadrette avrebbe vinto per 3-4-0, invece in questo pronostico io voglio essere più realistico e più chiaro. Io credo che il Napoli vincerà, però vincerà per 1-0 e metterà a segno proprio il grande Zelensky. Poi un'altra cosa, il Napoli adesso giocherà come titolare all'inizio della partita, Ozyman, infatti è una grossa cosa il giocatore. Il Napoli deve per forza vincere per chi non può permettersi il lusso di perdere, per chi, parliamoci chiaro, se abbandona queste squadre dell'Alaska il Napoli rimane indietro e deve per forza vincere. Poi un'altra cosa, ho visto su un social che il Napoli ha fatto la divisa nuova, la maglietta nuova. È tutta blé e ci sono delle fiamme che simbolizzano l'amore per il Napoli. È molto bella questa maglietta. Comunque ragazzi, adesso io vi saluto. Se vi è piaciuto questo video mettete un bel mi piace e siamo sempre più tifosi del Napoli. Condividete e iscrivetevi al mio canale, commentate e scommentate tutto quello che vi avete da dire. Io vi ascolto. Ciao a tutti, forza Napoli e grande Napoli! Ciao!